E' paura al parco divertimenti di Mirabilandia vicino a Ravenna. Un gruppo di turisti è rimasto sospeso nel vuoto da un otto volante. Era già accaduto un anno fa nello stesso parco e a bordo di una trazione simile. 8 passeggeri sospesi in aria e bloccati a bordo delle montagne russe dove il brivido è già assicurato. Siamo a Mirabilandia, il noto parco giochi di Ravenna frequentato ogni anno da migliaia di turisti, famiglie e bambini. La giostra dove è successo il D-Vertical, un otto volante acquatico e tre più alti adrenalinici del mondo. Inaugurato a Ravenna poco meno di due anni fa. Si è fermata all'improvviso dopo una corsa vertiginosa a 60 metri di altezze e ad una velocità di 105 km orari. Fortunatamente il dispositivo di emergenza si è attivato in tempo per bloccare la giostra, prima che potesse accadere il peggio. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, ma non sono mancati attimi di paura. L'attesa a bordo dell'otto volante è durata 40 minuti, fino a quando i vigili del fuoco, chiamati dai vigilanti del parco, sono riusciti ad intervenire. I malcapitati sono stati fatti scendere uno ad uno grazie alla tuscala dei vigili. Alcuni di loro forse avranno provato il brivido del momento, altri la paura di rimanere sospesi a testa in giù a 30 metri di altezza, come è accaduto qualche giorno fa in questo parco giochi in Russia. Meno male che è finita bene, solo appunto brividi e panico. Meno male che è finita bene, solo appunto brividi e panico.